Ben ritrovati e ben ritrovati, spero che stiate bene, serata di Champions, non per noi perché purtroppo in questa stagione va così, Inter-Benfica, partita tra le più interessanti di oggi, anche perché c'è il Fideo che torna in Italia, Angel Di Maria e ovviamente credo che i tifosi bianconeri auspicano che dai suoi piedi possa emergere qualcosa di interessante contro la formazione nera azzurra, questo è comunque il calcio e finché si resta nello spotto ci sta tutto, Di Maria che come ho già detto a più riprese mi ha deluso profondamente, mi sono sentito tradito dal Fideo nel doppio impegno contro il Siviglia, date ritorno, nulla a dichiarare, sì qualche bella apparizione, i tre assist contro il Maccabi, la tripletta in Europa League, però troppo poco, troppo poco per ciò che avrebbe dovuto dare il Fideo, l'ha passata stagione e poi la sua scelta si è dimostrata win-win perché rimanendo in Europa, lavorando la Juventus, comunque si è guadagnato la convocazione con la nazionale e ha vinto il mondiale sfornando una finalissima da urlo, quindi alla fine della fiera a leccarsi un po' le ferite la Juve che ha investito 7 milioni netti tra parte fissa e bonus per un solo anno di contratto per un giocatore che non ha fatto ciò che ci aspettavamo facesse, però questo alle volte anche il calcio, la passata annata non lo devo stare a raccontare a voi, è stata complicatissima per mille motivi, in casa Juve, ora mi sembra che Di Maria stia facendo grandi cose con il Benfica, l'ha tra l'altro già dominato e poi ha dato l'A alla sua scesa nel calcio europeo, ma è anche normale che sia così perché con tutto rispetto il campionato portoghese, il nostro non sarà più un campionato d'élite ma resta superiore con l'usitano, però fa piacere, fa piacere vedere Di Maria fare gol perché è una delizia per gli occhi, un calciatore incredibile e vediamo cosa combina questa sera a San Siro contro i Nerazzurri, ma veniamo a noi. Allora, io credo che ormai tra i tifosi gioventini le fazioni siano due nell'analizzare, nell'impostare questa stagione sebbene siano già trascorse sette partite ufficiali di campionato. C'è il tifoso che pensa che Allegri faccia la tappo a questa squadra o che quantomeno in generale non sia riuscendo a tirare fuori tutto il potenziale da questi ragazzi, e questo è un discorso che solitamente chi lo fa lo associa anche alle due stagioni precedenti, altri invece ritengono che Allegri o non Allegri questa squadra non sia ben che minimamente attrezzata per lottare per il vertice e che dunque questo sarà, la minestra è questa e si mangerà questo piatto fino al termine dell'annata. In tanti mi avete chiesto quale sia il mio punto di vista e se sottoscritto poi faccio parte di una delle due fazioni. In generale, secondo me, bisogna farsi sempre un'idea concreta, lucida, analizzando tutte le componenti. Mi spiego meglio. È innegabile che finora abbiamo assistito a delle partite che la Juve dal punto di vista tecnico, tattico, qualitativo avrebbe dovuto affrontare molto meglio. Penso al primo tempo con il Bologna, orrendo, e comunque anche questa Juventus, con tutte le sue lacune strutturali e quant'altro, non può giocare in quella maniera. Penso anche alla partita con il Lecce, che a me non è piaciuta in maniera più assoluta, poi qualcuno può dirmi, eh ma il Lecce non ha mai tirato in porta, non si è mai fatto vedere neanche lontanamente dalle parti di Shelsny, ma io contro il Lecce voglio creare almeno cinque occasioni nitide e non due come successo, di cui un gol. Penso, vabbè, Reggio Emilia, non voglio citarla perché secondo me l'area individualità hanno pesato enormemente, gli orrori compiuti da Shelsny e Gatti, ma anche la partita di Bergamo, c'è modo e modo anche di fare difesa posizionale, lì missione centrata, ma è andata bene perché alla fine l'Atalanta ha avuto le sue occasioni, soprattutto nella ripresa, per poter vincere il match e la Juve no, quindi mi aspettavo di più in fase di ripartenza. Insomma, anche con i limiti attuali, io dalla Juventus in determinate partite mi aspetto che faccia di più, in termini di esposizione stilistica, ma proprio anche di produzione offensiva. Io resto del parere che finora, escludendo Juventus-Lazio, che è stata fin qui la partita meglio interpretata dalla Juve, infatti vinta nettamente, anche grazie alla grande serata di Vlaovic, il mio riferimento resta il primo tempo di Udinese-Juve, scusate, perché quella partita comunque era stata un po' messa lì anche dallo stesso Allegri, ricordo ad Empoli quando a fine partita in conferenza aveva detto che la Juve aveva subito 8 occasioni e quindi ciò non andava bene, adesso non ricordo il dato statistico, ma credo 14 tiri da parte dell'Udinese. Invece a me proprio quel primo tempo mi era piaciuto molto, perché avevo respirato area di novità, freschezza, da associare poi al pre-season, in quanto io accetto totalmente di rischiare l'uno contro uno Bremer-Betto come era successo, anche due o tre volte a partita, a patto che vada a creare 7, 8, 9, 10 occasioni, perché se l'obiettivo è segnare e non accontentarsi come era successo proprio in quel primo tempo di Udine, è normale, fisiologico, che giocando con un bari centro-alto, difendendo a 30-40 metri e andando a tutta, l'avversario possa avere le sue occasioni. Quindi io torno lì, a me quel primo tempo mi era piaciuto molto. Da quel primo tempo siamo tornati a delle performance sulla stessa falsariga della passata stagione quando le cose sono andate bene a livello dei risultati. Ed è questo, secondo me, il cortocircuito. Cioè, la rosa, a mio modo di vedere, l'ho già detto, al giorno, non uno, meno uno di quest'annata, 2023-2024, per me non è una rosa da Scudetto. Allegri non Allegri, per me questa non è una rosa da Scudetto. Però in termini di performance si può e si deve fare molto meglio rispetto ai passi indietro che abbiamo visto contro Lecce e contro l'Atalanta. Perché ci vuole più coraggio. Ci vuole più coraggio anche nel lottare per l'obiettivo realistico, che è acciuffare un posto tra le prime quattro, che non significa arrivare quarti. Cioè, significa lottare per provare a ottenere il miglior piazzamento possibile. Però con maggiore coraggio, con maggiore lucidità, anche comprendendo come questa squadra abbia determinati limiti in fase di costruzione. Se guardo il centrocampo, centrocampo molto statico, dove tra l'altro in questo momento anche la stella più luccicante, Rabiot sta venendo meno. Perché poi dobbiamo parlarne. Finora Rabiot sarà che non ha fatto il precampionato in America, quindi una preparazione alla continenza e tutto, ma di queste sette performance, sì, ok, fa gol a Udine. È vero anche che ha due assist all'attivo, se non sbaglio, ma un giocatore per il momento che sta dando poco. E se da poco rabbio, figuriamoci gli altri. Quindi non faccio parte né di una né dell'altra fazione. Credo che la Juve, a livello qualitativo, non si è settata, ma anche a livello mentale, per lottare concretamente in chiave scudetto, ma al tempo stesso ci sono delle performance che devi fare molto meglio, dove non hai scuse. Cioè, anche a quelli attuali, anche con i calciatori attuali, non puoi vedere la scarsa produzione offensiva di Juventus Lecce, non puoi vedere l'inesistente produzione offensiva di Atalanta-Juve. Obiettivo quarto posto, non obiettivo quarto posto. Quindi, il mio punto di vista, la mia analisi è questa, soffregata poi dalle sette performance proposte fin qui dalla Juve, che sono state praticamente tutte differenti. E anche questo non va bene. Quando i molti mi chiedevano, ma che tipo di Juventus ti aspetti a Bergamo? Da un punto di vista tattico era molto semplice rispondere, ovvero difesa posizionale e ripartenza. E questo è stato, anzi, il 50%, difesa posizionale e nessuna ripartenza. Perché la Juve, le due, tre volte che ha avuto delle potenziali ripartenze e transizioni positive da sfruttare, lo ha fatto malissimo, tra imprecisione a livello di costruzione e movimenti sbagliati. Però non sappiamo mai, perché anche a Bergamo la Juve per 85-86 minuti a livello di testa è sul pezzo. Poi l'errore individuale di Gatti, la mancata copertura di Rabiot, e lì in Italia fa la differenza, soprattutto quando rischi così tanto, perché se vuoi ottenere il clean sheet, se vuoi ottenere fortunatamente per i bianconeri non era in serata sì, è perché poi Chesney fa quel paratone sulla punizione di Muriel. Quindi c'è da lavorare molto, tanto, perché dalla ventata di novità di Udine siamo passati alla comfort zone, che non sempre poi paga, che non sempre poi paga, e questo è, alla lunga può diventare un discorso pericoloso. Questo è il mio umile punto.